Ora si registrerà la conferenza. Adesso vediamo quelli che sono collegati in remoto. Per quello che abbiamo ricevuto dovrebbero essere la consigliera Ferego, la consigliera Floridi, il consigliere Di Cristo. Devi accendere per favore. Il consigliere Di Cristo deve rendersi visibile per cortesia. Subito. Mi sente? Ecco qua. La necessità di vederla. Ci siamo? Ci siamo ma devo vederla. Ecco qui, è giusto? Ok, perfetto. Perfetto, i tre punti fatti sono dati presenti. Adesso passo agli assessori. D'Amico Claudio, la Miranda Antonio, l'Anzoni Marco, Magro Alessandra, Pizzocchera Roberta, Torresani Maurizio. La seduta è valida, possiamo cominciare. Ci alziamo tutti in piedi ad ascoltare l'inno. Grazie. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Passiamo alla nomina dei tre scrutatori Consigliere Vittoria Consigliere Pasquinelli Consigliere Pastorino Grazie a tutti Buonasera a tutti i consiglieri Ci tenevo a ricordare prima di iniziare il consiglio che il consiglio è convocato in presenza e che verrà data la possibilità ai consiglieri impossibilitati di collegarsi in remoto si precisa che ove il collegamento dovesse dare i problemi di tenuta non consentendo al segretario generale di battutare la presenza e l'espressione di voto il consigliere collegato da remoto sarà considerato assente e la seduta ritenuta valida ad ogni effetto al fine di poter migliorare il regolamento abbiamo disposto o disposto quanto segue primo i consiglieri che intendono avvalersi della possibilità del collegamento da remoto devono comunicarlo 24 ore prima all'ufficio affari istituzionali secondo gli uffici provvederanno all'invio del link da utilizzare per il collegamento da remoto terzo, è ammesso la partecipazione al consiglio comunale dalle moto solo ed esclusivamente ai consiglieri ai membri della giunta comunale ai dipendenti del comune chiamati per ragioni di servizio ad assistere alla seduta quattro, il presidente del consiglio comunale e il segretario generale assumono la qualità di amministratore il presidente nella stessa qualità gestisce la riunione cinque, ad inizio seduta la presenza del numero legale dei consiglieri è accertata al fine di regolare lo svolgimento della stessa dal segretario generale mediante appello nominale al momento dell'appello o comunque al momento della connessione ove siano già avviati i lavori è obbligatorio dichiarare la presenza sesto, vista la particolarità della seduta e la gestione della stessa si raccomanda a tutti i consiglieri la massima puntualità e i consiglieri collegati di rimanere sempre, sempre visibili davanti alla loro postazione i consiglieri, punto 7, i consiglieri sia presenti in aula che collegati da remoto sono tenuti a tenere il microfono spento e a prenotarsi in caso di intervento specificando la natura della richiesta e attivare il microfono solo dopo aver ottenuto la parola dal presidente 8, il presidente dopo aver chiamato all'ordine i consiglieri che siano intervenuti senza autorizzazione può disporre la disattivazione del microfono al fine di regolamentare il giusto svolgimento del consiglio comunale 9, i tempi di discussione delle delibere, di presentazione, di discussione di ordini del giorno, di emendamenti e di dichiarazioni di voto rimangono quelli adottati nel periodo Covid 10, la votazione di delibere e o ordini del giorno e o emendamenti avverrà in due momenti distinti come sotto riportato prima verranno chiamati ad esprimere il proprio voto i consiglieri presenti in aula successivamente previa chiamata nominale quelli collegati da remoto che dichiareranno a voce la propria espressione di voto 11, lo svolgimento della seduta del consiglio comunale viene contestualmente resa pubblica attraverso modalità di diretta streaming a tal proposito do un attimo la parola al segretario generale prego segretario sì purtroppo c'è un problema legato allo streaming in diretta questa sera perché con questo sistema non è possibile supportare tutte e due le funzioni quindi sarà premura comunque degli uffici pubblicare entro breve la seduta che comunque verrà ripresa quindi stiamo assicurando in questo modo la pubblicità della seduta così come avviene anche perché mi sembra che dare un regolamento sì noi dobbiamo cioè non è il fatto di fare direttamente la visione di permettere direttamente la visione ma di assicurare che quanto detto in consiglio cioè durante quindi con l'espletamento delle funzioni del consiglio sia possibile vederlo anche non in diretta ma in differita cioè in un momento successivo però viene garantita la pubblicità della seduta grazie possiamo quindi iniziare il nostro consiglio comunale ho una comunicazione che vado a leggervi comunicazione di deliberazione numero 156 del 2020 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia ricordo che con deliberazione di consiglio comunale numero 35 del 30 ottobre 2018 è stato approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriannale prevista dall'articolo 243 bis del TUEL che in data 14 gennaio 2019 questo consiglio ha approvato la deliberazione numero 1 avente ad oggetto approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriannale articolo 243 bis del decreto legislativo numero 267 del 2000 comunico che l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriannale di cui è l'articolo 243 quater del TUEL si è concluso con l'approvazione dello stesso da parte della Corte dei Conti con deliberazione numero 156 2020 trasmessa tramite posta certificata in data 11 11 2020 che il testo della deliberazione della Corte dei Conti è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente alla sezione amministrazione trasparente controlli gli rievi sull'amministrazione Corte dei Conti trattandosi di mera comunicazione al consiglio non viene effettuata nessuna volontà a votare passiamo alla delibera di consiglio al punto 1 approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2019 i sensi dell'articolo 11 bis del decreto legislativo numero 118 2011 do la parola al signor sindaco Roberto Di Stefano prego buonasera buonasera a tutti quanti buonasera grazie presidente la prima delibera che porto l'approvazione dello schema di bilancio consolidato che è stato già spiegato in commissione settimana scorsa parte innanzitutto dal rendiconto che abbiamo approvato nelle ultime sedute di bilancio nelle ultime sedute di consiglio comunale al quale poi adesso andiamo a aggiungere a sommare quelle che sono le eh gli utili o le perdite delle società partecipate dal comune di Sesto San Giovanni un po' quasi come eh se si vedesse il comune come una holding che racchiude al proprio interno le partecipate delle altre società allora partiamo dalla normativa ovvero dal perimetro normativo dentro il quale bisogna inserire all'interno del bilancio consolidato gli utili o le perdite delle società partecipate ehm la soglia di rilevanza così sono definiscono i principi contabili l'importo da inserire o meno eh ai fini dell'inclusione del degli enti locali e società partecipate all'interno del bilancio consolidato dell'ente eh è del tre per cento per uno di quei dei seguenti valori eh rispetto al bilancio della capogruppo eh il primo valore è l'attivo eh del bilancio del comune di Sesto il secondo il patrimonio netto e il terzo è il valore della produzione ora andando eh a ehm verificare quelli che sono eh le situazioni delle società partecipate andando ad analizzare quindi l'attivo, il patrimonio netto e il valore della produzione eh che sia superiore al tre per cento ehm ci rendiamo conto che eh quattro società, ben quattro società eh l'altro status è eh qualora sono inferiori al tre per cento oppure siano in liquidazione. Quattro società eh non superano quelli che sono eh questa è quella che la soglia di rilevanza. In particolar modo sono il CTP, il Consorzio dei Trasporti Pubblici perché è in liquidazione, il CIMEP, il Consorzio Intercomunale Milanese dell'edilizia popolare perché è in liquidazione, la fondazione ISE che è eh il centro studi PIM perché hanno tutti e tre i valori sia il totale attivo che il patrimonio netto che il valore della produzione inferiore a quella che la soglia di rilevanza indicata per legge. Rimangono tutte le altre eh partecipate CAP con il nove virgola novantotto per cento, Core con che il Consorzio Recupero energetici con il trentotto per cento, Pro Aris con il quaranta per cento, il Consorzio Biblioteche, il CSBNO con l'undici virgola quattordici per cento, il Parco Nord con cinque virgola sette per cento, la Fondazione Pelucca con cinquantasette per cento, la Fondazione Generiamo al cento per cento, quindi un metodo di consolidamento integrato mentre gli altri sono proporzionali e AFOL con il due virgola quarantasei per cento. Ora andando ad analizzare quelli che sono i bilanci di tutte le partecipate eh il focus che ho fatto anche in commissione solo su quattro società che portano una perdita nel bilancio d'esercizio e in particolar Core che ha chiuso l'esercizio con una perdita di due virgola sette milioni dovuta principalmente al al debito eh con eh il Ministero per eh i fondi del il contributo del CIP sei eh che ha dovuto restituire qui apro e chiudo una parentesi eh ad inizio anno si è perfezionata l'accessione degli asset patrimoniale eh nei confronti di cap per il progetto della bio piattaforma e anche l'ultima rata eh del debito del CIP sei col Ministero è stata sanata quindi col prossimo anno non avremo più l'onere della perdita da mettere a bilancio da parte di Core cosa che abbiamo avuto un po' da eh diversi anni. La seconda società è il CSBNO il consorzio eh che chiude l'esercizio il consorzio bibliotecario che chiude l'esercizio del diciannove con una perdita di sessantasette mila euro dovuto a eh errori di registrazione contabile faccio memoria che il comune di Sesto San Giovanni si è astenuto dalla votazione dall'approvazione del bilancio del consorzio. Poi abbiamo la fondazione Pelucca che può eh chiude l'esercizio del diciannove con una perdita d'esercizio di sei mila trecento euro eh in netto miglioramento rispetto al precedente anno che eh eh toccava quasi la perdita di duecentomila euro eh e qui eh consentitevi di un ringraziamento al nuovo consiglio di amministrazione che si è insediato che ha saputo ridurre quelle che sono le spese e i costi fissi della fondazione eh aspettando magari il prossimo anno per portare un utile per certo recuperando circa duecentomila euro al bilancio di esercizio rispetto l'anno precedente eh l'anno precedente e per finire la fondazione generiamo che porta una perdita di duemila e cinquecento euro dovuta principalmente al fatto che eh da un lato il primo anno di attività della fondazione e anche a causa dell'emergenza covid ha avuto un forte rallentamento della eh propria attività eh di gestione sulla base di quelle che sono eh quindi il i conti del comune che abbiamo approvato nel rendiconto sommandogli quelli che sono i conti, le utili e le perditi, i risultati di esercizio delle partecipate eh la holding quindi il comune di Sesto San Giovanni nel bilancio eh consolidato eh passa da una perdita dello scorso anno che era di eh settecentonovantamila euro a un saldo positivo di un milione e sessantaquattro mila euro. Un miglioramento netto rispetto gli anni l'anno precedente perché eh oggettivamente sono migliorati sia i conti dell'ente comune che eh delle partecipate rispetto al al precedente anno e quindi la eh la risultanza a di del consolidato è un saldo positivo di un milione e sessantaquattro mila seicento diciotto euro virgola settantacinque centesimi grazie. Grazie a lei signor sindaco apriamo la discussione ricordando che abbiamo cinque minuti per gruppo chi si vuole prenotare è libero di farlo da questo momento in poi. Nessuna prenotazione? Sono prenotata io signor presidente. Prego consigliere Pagania, a lei la parola. Sì grazie mille eh signor presidente spero che si senta come ovviamente per tutti con la mascherina allora intanto volevo cogliere l'occasione per ehm sottolineare che questa sera rivedo con molto piacere il consigliere di Cristo dopo diversi mesi di assenza in consiglio comunale e so di rivederlo proprio perché è stata possibile possibile il la connessione in remoto quindi sono molto contenta che lui sia presente sono molto contenta che sia data la possibilità di esercitare il ruolo e l'impegno di consigliere comunale che quello che naturalmente ciascuno di noi si è preso nel momento in cui si è candidato ed è stato votato credo anche che questa sia la dimostrazione che eh il consiglio comunale remoto si possa fare stiamo partendo mi sembra che si possa fare e credo che eh la presenza del consigliere di Cristo eh dimostri che eh questo ci rende tutti uguali ognuno nelle proprie differenze e nelle proprie fragilità anche ma rispettando le possibilità di tutti quanti oltre che risolverebbe una questione lo sottolineo per l'ennesima volta magari vi stanca però resta per noi importante la questione del contingentamento dei tempi che ovviamente il remoto non sarebbero assolutamente necessari quindi io invito tutti i consiglieri presenti a fare una riflessione su questo perché sarebbe importante riuscire a ripristinare una condizione di normalità di discussione in quest'aula secondo quello che è il regolamento del consiglio comunale ehm arrivo alla delibera in discussione abbiamo ascoltato sia in commissione che questa sera la relazione del del sindaco sul bilancio consolidato ehm come dire sintetizzato direi in maniera efficace il concetto di holding il concetto di utile e di perdite delle partecipate ehm io voglio soffermarmi questa sera anche qua forse sarò ripetitiva se mi soffermo in particolar modo su una partecipata nello specifico che è la fondazione generiamo non per una questione di perdita che duemila e cinquecento euro devo dire non sono assolutamente un dramma viste le condizioni soprattutto quelle che viviamo in questo momento ma legate sostanzialmente a quella che è la funzione di quelle che dovrebbero essere le partecipate e quindi a questa funzione funzione scusate che risulta ancora essere non esplicitata almeno dalle intenzioni con le quali questa fondazione era nata allora ci ritorno per due motivi perché delle domande le avevo già fatte ma non ho trovato risposte e quindi le rifaccio perché credo che questo sia il luogo importante ci torno anche perché secondo me questo elemento rappresenta molto bene cosa vuol dire fare politica con la retorica delle parole senza però una corrispondenza tra ciò che si narra e quelli che sono i fatti allora le parole prese naturalmente nei documenti che ci avete consegnato la fondazione nasce perché mirata la gestione di servizi educativi per l'infanzia persone in difficoltà sappiamo benissimo tutti che avevamo due servizi in scadenza il cdd da una parte e la comunità alloggio per disabili dall'altra non si capisce non non si capisce perché rispetto ad alcuni bisogni non c'è una riflessione e un intervento e un ragionamento sulla presenza come dire della fondazione partecipata di generiamo ma soprattutto risulta ancora come dire più evidente che abbiamo scelto di fare un avviso di gara che taglia sostanzialmente quello che è il contributo comunale oltre a declassare dal mio punto di vista una delle due strutture e questo è un fatto questo è necessariamente un fatto parliamo di una fondazione che deve sostenere dal punto di vista educativo i bisogni dei disabili e noi abbiamo ragazzi tuttora oggi ancora che vanno a scuola in presenza ragazzi fragili che entrano 1 2 3 ore dopo che escono 1 2 3 ore prima perché non hanno il supporto educativo e non svolgono le attività le normali ore che dovrebbero svolgere come i loro compagni in classe questo avviene in presenza quando parliamo della didattica a distanza questo è ciò che viene denunciato nei fatti questa è la realtà dei fatti parliamo di bambini parliamo di studenti parliamo di genitori parliamo di famiglie e di fatto di fatto è vero che le ore vengono assegnate dal provveditorato ma devono essere mantenute dal comune noi abbiamo perso vado a chiudere una causa per discriminazione questo avrebbe dovuto insegnarci che c'è una differenza tra ciò che possiamo e ciò che dobbiamo fare perché è previsto per legge retorica delle parole da una parte fatti dagli altri la politica dovrebbe cambiare i fatti questo dovrebbe fare la politica e non scrivere relazioni grazie grazie a lei consigliera do la parola alla consigliera floridi in remoto prego attivi l'audio di niente si è dato grazie per tutti anch'io innanzitutto sono molto felice di poter partecipare da remoto a questo consiglio come ho scritto tra l'altro via mail non tanto per una mia problematica di salute ma perché per la mia situazione familiare in questo momento di convivenza potrei essere io invece essere quella che mette in pericolo voi quindi sono molto più tranquilla sapendo di poter non mettervi in pericolo due parole generale sul bilancio consolidato che per quanto io mi renda conto di non essere in grado di poter entrare in merito più tecnico vorrei spendere anch'io due parole in merito alla fondazione generiamo forse perché la tematica che mi sa non si consigliera floridi mi scusi un secondo abbiate anche con piessenza tutti ma stasera è la prima volta e dobbiamo mantenere l'ordine consigliere di cristo io non la vedo più e non la vede più neanche il segretario da regolamento se non la vediamo dobbiamo ritenerla assente quindi deve devo chiuderle l'audio io ci sono ma non vi vedo ma ok provo a risolvere le chiedo cortesemente di essere visibile grazie mille scusi è consigliera prego mancherebbe ritorno al mio punto velocemente non potendo entrare più di tanto nel merito tecnico volevo comunque spendere due parole in merito a generiamo perché ci sembra ne abbiamo parlato intorno al mio gruppo che i dati economici rivelano un attimino quella che è stata la vera finalità di questa fondazione cioè quella che ci è sembrata semplicemente economizzare sui servizi per l'infanzia non con delle riforme gestionali ma con ritribuzioni più basse al personale e il primo risultato ottenuto è stato poi quello della difficoltà nel reporire personale esperto qualificato che invece si è orientato verso altri lì di verso altri impieghi pubblici in particolare ad esempio a milano si è rischiato quindi di non avere neanche personale a sufficienza ad esempio per la riapertura dei nidi o di aver addirittura la necessità di chiudere un servizio come piccoli e grandi per spostare il personale su altri esercizi che ne avevano più bisogno. Siamo quindi purtroppo ben lontani da quella che era la finalità dichiarata dai provvedimenti costitutivi della fondazione nel DUP dove si dichiarava invece la volontà di esplorare e studiare nuovi e diversi modelli di gestione dei servizi per l'infanzia e per le fragilità al fine di sviluppare un progetto organico di welfare cittadino che invece è molto importante implementando una programmazione strategica e non solo tattica per anticipare fenomeni sociali e non subirli. Tutto questo. La ringrazio consigliera. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Chiudo la discussione. Procediamo alla dichiarazione di voto. Lista civica giovani sestesi, consigliere Vino, prego. Grazie presidente, buonasera a tutti e buonasera al consigliere di Cristo che con piacere vedo nuovamente tra di noi al consiglio comunale. Per quanto riguarda la votazione di questa delibera la lista civica dei giovani sestesi farà un voto di contrarietà. Grazie. Sesto al primo. Ah no, facciamo i collegati, passiamo dopo. Movimento 5 Stelle. Grazie presidente, il Movimento 5 Stelle voterà no a questa delibera. Grazie. Lista di Stefano Sindaco, consigliere Attanasio. Grazie presidente, favorevole. Identità civica, consigliera Iosa. Grazie presidente, favorevole. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Grazie presidente, favorevoli. Forza Italia, consigliere Cozza. Grazie presidente, anch'io mando un saluto particolare a Vincenzo di Cristo. Presidente, il nostro voto è favorevole. Amiamo sesto, consigliere Molteni. Grazie presidente, salutiamo Vincenzo, visto che lo salutiamo tutti con piacere. Il nostro voto è favorevole. Passiamo ai collegati in remoto. Sesto al primo posto, consigliera Floridi. Grazie presidente Contrari. Partito Democratico, consigliera Perego. Grazie presidente Contrari. Mettiamo in votazione la delibera al punto 1. Come detto prima, voteranno prima i presenti. Per alzate di mano. Favorevoli? 15. Vi faccio. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Quindi per i presenti ci sono 15 favorevoli. Contrari? 6 contrari. Astenuti? Prego. Astenuti nessuno. Adesso passiamo alla votazione. Si sente? Passiamo alla votazione di chi è collegato in remoto. chi è favorevole? Nessun favorevole. Chi è contrario? 3 contrari. E chi è astenuto? Nessuno. Quindi la delibera passa con 15 voti favorevoli e 9 contrari. Grazie. Passiamo alla delibera al punto 2. Documento unico di programmazione DUP periodo 2021-2023. Presentazione e conseguenti determinazioni articolo 170,1 del decreto legislativo 267. la delibera al punto 1. La delibera al punto 1. Va votata l'immediata eseguibilità? Favorevoli? 15 favorevoli. 15 favorevoli. Contrari? 6 contrari. Passiamo alla votazione di chi è in remoto. Favorevoli? Nessuno. Contrari? 3. E astenuti? Nessuno. Presidente, mi scusi. Posso intervenire? Faccio appello all'articolo 57 sull'ordine dei lavori della seduta. Mi permette di intervenire? Allora, chiediamo al signor sindaco se intende rispondere alla nostra lettera sui dipendenti comunali inviata domenica 15 novembre. Ecco, non so se si ha intenzione di rilasciare una dichiarazione del merito. Il consigliere Pastorino. Adesso finiamo le delibere e poi dopo teniamo presente nella sua dichiarazione. Va bene, abbiamo anticipato alla richiesta. Grazie mille. Prego a lei. Delibere al punto 2 documento unico di programmazione DUP 2021-2023. Presentazione conseguente determinazione articolo 170,1 del decreto legislativo 267 del 2000. Do la parola al signor sindaco. Prego. Grazie Presidente. Credo che dopo ben 45 minuti di presentazione del documento unico di programmazione in commissione, io non ho altro da aggiungere, anche perché domande in commissione non ce ne sono state. Quindi, a questo punto, anche per ottimizzare quelli che sono i tempi, lascerei direttamente la discussione politica al Consiglio Comunale. Grazie. Grazie a lei, signor sindaco. Apro la discussione. Grazie a lei, signor sindaco. 2020-2022. Ciononostante, siamo riusciti a realizzare alcuni punti importanti del programma. Ne voglio citare alcuni. Abbiamo continuato il contrasto al commercio abusivo, all'accattonaggio, a tutti i livelli sul nostro territorio. Con l'assunzione di nove nuovi agenti, è stato istituito il quarto turno serale di vigilanza. Nelle serate del venerdì, sabato e domenica. È stato istituito il nucleo di polizia giuridiziaria, che sta operando con risultati di una certa rilevanza rispetto a reati predatori e contrasto allo spazio di droga, nonché ad altre fattispecie di reati. Nonostante il problema della pandemia, siamo riusciti a garantire dal 15 giugno i due servizi giocheria-laboratori, e piccoli e grandi, realizzando dei laboratori a piccoli gruppi di bambini accompagnati da un adulto. La nota stonata, purtroppo, riguarda il settore dello spettacolo, che subendo le stringenti misure di sicurezza a causa di Covid-19, non ha consentito di iniziare la stagione al carro-ponte. Detto questo, entro nel merito del DUP 2021-23, che andiamo a deliberare questa sera. I nuovi inserimenti sono in parte una continuità progettuale, già avviata, come l'obiettivo di estendere sul territorio le telecamere di videosorveglianza, per la gestione delle quali è stato recentemente approvato un regolamento anche per estenderne l'utilizzo sul territorio. Altri inserimenti sono conseguenza di segnalazioni di cittadini, recepite da consiglieri di maggioranza, che se ne sono fatti carico. Tra queste, il miglioramento delle aree cani, fornendole di adeguate strutture di illuminazione, la chiusura dei parchi cittadini, per evitare degrado e schiamazzi notturni, la riqualificazione dei vialetti interni e parchi, delle piazze, delle strade e dei marciapiedi. Un altro punto molto importante, che tocca l'aspetto sociale, è la riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico, con interventi di messa a norma degli alloggi, con particolare riguardo all'abbattimento delle barriere architettoniche e la promozione della mobilità abitativa. Con lo strumento del cambio alloggio, è favorire così le condizioni di quei cittadini con difficoltà motori, sensoriali e psichiche. Grazie. Grazie a lei, consigliere Pasquinelli. Si è prenotata la consigliere... Prego, consigliere Ghezzi. Se c'è qualcun altro, lascio andare avanti. In remoto poi c'è la consigliera Perego. Come finiamo all'interno, passiamo ai consiglieri in remoto. Prego. Bene, grazie Presidente. Buonasera, buonasera a tutti i cittadini. Io vorrei fare un intervento di giudizio e di valore su quanto stiamo andando ad approvare con il documento unico di programmazione, ricordando che questo periodo di Covid ci ha insegnato cose molto preziose di cui la politica dovrà fare memoria da qua in avanti. Innanzitutto che essere puntuali ed efficaci e preparati è sostanziale per saper reagire all'imprevisto. E anche quando programmi purtroppo l'imprevisto arriva e ti stravolge. Quindi a maggior ragione serve essere efficienti, preparati e competenti su quello che si va a fare. Ma ci ha insegnato anche due grandi punti che ho citato anche in interventi precedenti ma che ci tengo a riproporre. Il primo è che la carità è possibile anche in un ambiente che purtroppo sembra essere spesso lontano da questa parola. E mi vengono in mente una serie di iniziative che, si voglia o non si voglia, sono state portate avanti mirabilmente da questa amministrazione. Parto dal COC, dal Centro Operativo Comunale, per arrivare alla questione del fondo povertà in collaborazione con le associazioni residenti sul territorio. Non dimentichiamocene, visto che sembra che solo la sinistra fosse amica delle associazioni. Lo siamo anche noi, scusate. Penso al buono spesa, penso al fattore famiglia, con 793 domande. Iniziativa di Regione Lombardia riportata sul territorio molto felicemente dall'assessorato di questa amministrazione. Ma arrivo anche a un altro punto valoriale che il Covid ci ha aiutato a riscoprire, che è quello dell'affetto più vicino, l'affetto dei nostri cari. E allora mi vengono in mente anche iniziative che erano partite ancora prima del Covid, come è stato menzionato prima, ma purtroppo abbiamo dovuto poi riadattarla e sospenderla, come tutta la politica della famiglia. Quindi io penso alla Fondazione Generiamo con piccoli e grandi, con 70 famiglie che si erano iscritte a questa iniziativa. E scusate, questo è qualcosa, non è zero. Cosa dire delle politiche sull'infanzia e per i giovani? Con le convenzioni che abbiamo voluto aprire con le palestre, con Punto Zero come centro polifunzionale sul territorio. Ma il Covid ci ha fatto capire che la fragilità purtroppo arriva anche, lo dobbiamo dire, alla morte di tanti cari. E allora qua entra ancora una volta l'intervento operativo di questa amministrazione, che sta andando a riapprovare l'ampliamento dei loculi presenti anche nei nostri spazi cimiteriali. Questo, scusate, è una cosa che bisogna ricordarsi. Quando noi siamo saliti al governo di questa città, c'erano cinque posti atti nei cimiteri ad ospitare su 83 mila abitanti, ricordiamoci. L'efficientamento dell'ente, l'ho detto prima, fa parte non di un percorso di restrizioni e di costrizione del personale, ma di valorizzazione del personale. In un momento in cui bisogna andare a sodo, occorre essere focalizzati sull'obiettivo. E se questo non c'è, non è una questione di essere aziendalisti, bisogna essere molto concreti. Devo dire che questa amministrazione, in questo senso, ha lavorato e sta lavorando molto bene in questa direzione. Allora, urge adesso pensare al futuro. Noi, come Identità Civica, abbiamo proposto, nelle nuove linee programmatiche, alcuni elementi molto concreti, molto semplici, ma che pensiamo possano portare ad un futuro sicuramente di aiuto al cittadino. Penso ad alcune azioni sul PGT, che stiamo concordando, proprio abbiamo concordato con l'assessore, la possibilità, per esempio, di riuscire a sgravare dal computo dell'SLP le superfici dei terrazzi nei nuovi edifici che verranno sul territorio. Questo cosa vuol dire? Case più belle, case più ergonomiche, una vita domestica più piacevole. Penso alla valorizzazione di tutti quelli che sono i poli attrattivi già presenti sul territorio, alla viabilità, per esempio, al rilancio di Viale Matteotti. Con l'assessore La Miranda stiamo pensando proprio di riuscire a rivedere un pochino la viabilità per aiutare ulteriormente quei centri che sono eccellenze regionali e nazionali. Penso infine a temi che questa amministrazione ha portato avanti, sicuramente partiti con l'amministrazione precedente, ma portati avanti molto bene da questa amministrazione, come il tema dell'inceneritore e il tema poi dell'interramento, dell'elettrodotto, per il quale abbiamo proposto, mi sono messo la sveglia per interrompermi, abbiamo proposto di poter proseguire questo percorso sulla parte di elettrodotto ancora scoperto, dal cimitero nuovo fino a Cologno. Quindi che dire, non ci resta davvero che riscoprire, io cito solo tre cose, tre parole che mi sono rimaste impressa dall'intervento del professor Draghi lo scorso agosto. Conoscenza, coraggio e umiltà sono tre linee guida che dobbiamo portare avanti da qua in avanti nel nuovo DUP. Grazie. Grazie a lei, consigliere Ghezzi. Ha chiesto la parola alla consigliera Perego. Prego, consigliera Perego. Grazie, presidente. Tra il mio ricollego a quest'ultima battuta con... Mi scusi, presidente, c'è il consigliere Vino che sta chiedendo la parola. Poi gliela diamo una parola, prego. Ok, se mi fa recuperare questi secondi che ho perso, grazie. Dicevo, mi ricollego a quest'ultima battuta in chiusura del discorso del consigliere Ghezzi in cui dice che è importante la conoscenza, il coraggio e l'umiltà. Diciamo che leggendo il DUP presentato in commissione consigliare direi che l'umiltà mi sembra proprio forse l'ultima delle doti di questa amministrazione perché il DUP presenta una narrazione che io definirei quasi a geografica di quello che ha fatto l'amministrazione comunale in questi tre anni di governo. La prima cosa che ci sentiamo di sottolineare rispetto al documento unico di programmazione che ci perché impedisce a chiunque di fare una valutazione oggettiva del lavoro svolto dall'amministrazione è che si tratta di un documento che potrebbe quasi essere definito un libro dei sogni, un documento che racconta le mirabili geste dell'amministrazione ma che è privo in qualche modo di dati numerici rispetto a parte le sezioni dove i dati numerici per obbligo devono essere riportati però rispetto a quanto si dice non viene mai data la misura degli interventi riportati e degli interventi presentati come elemento di forza. Faccio degli esempi. Nel documento unico di programmazione si elogia tantissimo si elogiano gli interventi fatti in merito ai DASPO domanda che abbiamo sempre fatto quanti di questi DASPO si sono rivelati effettivi quanti invece nel giro di due o tre giorni sono rivelati in realtà assolutamente inconsistenti. Altro, si parla del controllo di vicinato bene, anche su questo forse sarebbe interessante per il Consiglio Comunale ma soprattutto per i cittadini capire che cosa ha prodotto. Si parla di sanzioni contro il degrado quante, che effetti hanno prodotto perché passando per le strade di sesso mi sembra che queste ispezioni e queste sanzioni contro il degrado non abbiano prodotto effetti e mi viene da chiedere se il degrado a questo punto come fino a 4-5 anni fa aveva un colore politico a questo punto non debba essere imputato a una responsabilità anche di chi amministra non solo dei singoli cittadini. Nulla più si dice forse l'ho perso io però sarebbe stato interessante avere anche qua un ritorno quantificato del progetto del doposcuola sportivo si parla del progetto Sesto aiuta Sesto dicendo che ha avuto grande successo in che termini. Altra cosa c'è un'incapacità di una visione ampia a lungo termine su alcuni temi le pari opportunità il tema del lavoro si riduce semplicemente alla dichiarazione di voler portare sul territorio un'agenzia per il lavoro l'infanzia e la fragilità si parla di diversi modelli di gestione chi sta presentando quali grandi progetti mi viene da chiedere quali sono questi nuovi modelli di gestione quello della fondazione Generiamo che a parte due nidi per il resto abbiamo l'ha già detto la consigliera Pagani che mi ha preceduto non mi sembra stia dando vita a una nuova forma di welfare quelli del nuovo bando che è stato fatto sui centri di urni disabili è chiaro che quel bando in qualche modo se lo si va a leggere nel dettaglio taglia il contributo comunale e soprattutto declasserà la struttura da centro socio-sanitario a comunità alloggio con una recaduta sugli ospiti sugli utenti sullo sport quando si parla di sport si parla esclusivamente di impianti con ovviamente le criticità che ci sono bene i progetti la valorizzazione delle esperienze delle associazioni sul territorio perché occuparsi di politiche sportive non è solo occuparsi degli impianti certo questo è necessario però poi gli impianti devono essere vissuti e fatti funzionare come ci si relaziona col territorio perché qua mi sento dire noi abbiamo valorizzato le associazioni sì forse solo alcune altre associazioni invece no altre associazioni addirittura ma non riapriamo questo capitolo lo sapete bene sono state sfrattate oltretutto perdendo un ricorso il sostieno alla genitorialità ma mi sembra che con l'inizio dell'anno scolastico piccoli e grandi qualche complessità l'abbia dovuta affrontare anche in relazione all'emergenza covid l'impegno a sostegno degli studenti con fragilità come? non c'è nulla su un tema fondamentale come la dispersione scolastica chiudo solo dicendo una cosa in riferimento anche a quello che ha detto il consigliere Ghezzi la carità a parte che mi sembra strano utilizzarla come categoria politica però fare la COC in realtà non è stato un atto di carità ma rientra rientrava tra gli obblighi di un'amministrazione che seria si volesse dire grazie presidente grazie a lei consigliera consigliere Vino prego grazie presidente buonasera a tutti nuovamente ma il il DUP come ben sappiamo è uno dei documenti più importanti di un'amministrazione ha ovviamente le due sezioni quella strategica e quella operativa però riguardandolo rileggendolo devo essere sincero andate avanti così così ne riparliamo tra un anno e mezzo perché tra quello che c'è scritto e quello che si vede in città da parte del nostro gruppo politico siamo solo che felici perché si parla di aver messo in azione in campo azioni di contro il degrado contro cose di allontanamenti come i DASPO però se guardiamo le discariche a cielo aperto sono ancora in tutti i cantoni della città quindi il degrado c'è ancora i DASPO l'abbiamo visto i primi giorni con quella torta verde mega galattica dell'assessore fantasma che non si vede più ormai da una vita e quindi come cosa dire un libro dei sogni è andato quasi a male ormai perché voi siete quelli fondamentalmente che dei portici di via Marzabotto voi siete quelli delle uole che però le fanno i privati così come voi siete appunto quelli della baby card un'azione messa in campo per il lancio del commercio di vicinato così come degli asfalti a Franco Bollo perché se prendiamo un drone e lo facciamo girare per Sesto San Giovanni guardiamo tutti gli asfalti fatti a differenza di quello che viene detto di montagne e di chilometri di asfalto sono tutti asfalti a Franco Bollo detto questo io non avrei toccato il settore dei cimiteri o robe del genere consigliere Ghezzi ma lei mi ha invitato perché sa benissimo il lavoro che faccio guardi premetto che avete ereditato una situazione disastrosa per quanto riguarda i cimiteri l'ho detto anche in passato e me può dare atto anche l'assessore Torresani ma non mi venga a dire che voi avete gestito i cimiteri in maniera eccellente perché gli oculi sono stati aperti cinque giorni fa detto questo dobbiamo ancora parlare del campo delle persone purtroppo colpite da covid che sono mischiate con le altre persone quindi lascerei perdere questo argomento che tocca molto i sentimenti e il rispetto delle persone in questo momento glielo dice una persona che ancora oggi sta vivendo una situazione che è decisamente peggio del primo lockdown io lo posso garantire è decisamente peggio detto questo sto fermandomi su quelli che sono i punti del del dupe cosa dire un vero un vero libro dei sogni e fortunatamente come dicevo prima sono contento per come state mettendolo in pratica perché tra qualche tra qualche tempo ritorniamo alle urne e forse è arrivato il momento di di mandarvi a casa visto che il lavoro che state facendo avete avete presentato un progetto bellissimo un libro dei sogni volevate stravolgere la città ma essere buoni in questo momento posso dire che la città non è assolutamente cambiata se non per le aiuole grazie ai privati che hanno messo con il loro contributo hanno abbellito la città guardando il dupe ho visto tre righe in riferimento al lavoro che è una cosa che veramente grida vendetta sul commercio di vicinato non ho visto azioni messe in campo dal sindaco e da questa amministrazione a favore del commercio di vicinato e delle imprese in questo momento che sono in sofferenza e mi riferisco alle tassazioni che sono state aumentate lo scorso anno alcune tasse non ce lo dimentichiamo perché è così e allo stesso tempo quest'anno azioni in campo dove tolgono le tasse per quest'anno alle attività sul territorio non ne ho ancora viste questo per quanto riguarda poi potrei andare avanti chiaramente sul commercio di vicinato ma sarebbe come sparare sulla croce rossa in questo momento però mi piacerebbe sinceramente capire quali sono veramente le azioni che vorrebbe mettere in campo questa amministrazione così per il lavoro perché dire che arriverà il Burger King e arriveranno 20 posti di lavoro è bello ne abbiamo già parlato di questa roba ma quali sono i contributi che questa amministrazione dà alle imprese per venire ad investire in questa città non l'ho letto nel DUP io non l'ho letto non ho visto niente che mi possa dire da imprenditore a un collega vieni a investire nella nostra città perché la nostra città è un territorio che ti potrà far crescere imprenditorialmente io questo nel DUP non l'ho visto vogliamo parlare delle case le azioni da mettere in campo dov'è che ho letto città che guarda al futuro gli alloggi saranno sottoposti ad un piano di recupero e di ristrutturazione così come tutte le altre voci che ci sono dentro poi alla fine c'è la frase quella carina dove dice sempre compatibilmente con le risorse quindi siamo sempre lì dite tante cose e poi alla fine sempre compatibilmente con le risorse oppure ci inventiamo magheggi come per la videosorveglianza che sfruttiamo il privato tra virgolette la loro corrente le loro postazioni il loro wifi permettere una postazione per cortesia però la parola magheggi è brutta consigliere no non è assolutamente offensivo come? la invito a concludere assessore assessore per favore magheggi la invito a concludere consigliere non era dovuto a reato la mia frase detto questo se non ci fosse oggi tanta disponibilità dal territorio probabilmente voi sareste a casa già da un po' di tempo e mi auguro che ci andrete presto grazie grazie mille si è prenotata la consigliera floridi prego consigliera questa volta accendo il microfono grazie presidente allora cercherò di essere il più sintetica possibile innanzitutto parto dicendo che siamo perfettamente coscienti che alcuni dei risultati sono stati sicuramente condizionati dalla situazione che stiamo vivendo come sicuramente è d'obbligo un ringraziamento a tutte quelle persone che in una situazione di questa difficoltà stanno lavorando e operano in smart working in presenza eccetera eccetera vogliamo indicare però anzi vorremmo indicare però alcuni temi che vogliono essere anche delle provocazioni mi perdonerete riguardo alla sicurezza ad esempio mi è sembrato di capire dagli ultimi giorni che l'organico della polizia sia insufficiente per garantire il turno notturno che era già previsto in scala ridotta e che il covid ha ulteriormente messo in discussione come tra l'altro segnalato dalle stesse organizzazioni sindacali che sono in agitazione questo mi sembra un'indicazione abbastanza chiara riguardo al clima che c'è all'interno del corpo riguardo al degrado non mi sembra ci sia stato un miglioramento anzi alcune alcun peggioramento per quanto riguarda molto spesso rifiuti ingombranti abbandonati con rammarico il taglio indiscriminato degli alberi pregiati di alto fusto questo è sicuramente un rammarico sicuramente positivo l'aver costituito ad esempio invece il nucleo di protezione civile magari andrebbe un attimino capito più a fondo il suo impiego per quanto riguarda una città fruibile sebbene la zona traffico limitata sia ancora lontana da venire questo è invece c'è poi un tema che a me riguarda tanto da vicino sono le piste ciclabili non mi sembra di aver visto nulla che ne parli in quanto una persona giovane senza una macchina e che si sposta molto spesso in bicicletta soprattutto in questa situazione di emergenza magari sarebbe stato molto così bello da parte mia poter leggere qualcosa di questo genere non mi è sembrato di trovarne cultura sicuramente buone le iniziative della biblioteca come ad esempio gli incontri con gli autori molto ben fatti noto però una riduzione di altri eventi a sfondo culturale non mi sembra di averne rilevati e sempre da persona giovane che vive la propria città mi spiace sempre di più notare una riduzione dell'utilizzo di strutture in passato centrali come il carroponte lo spazio mil ovviamente capisco che adesso in questa situazione non sia possibile ma anche in passato ho riscontrato questa carenza un altro tema che mi è molto a cuore sono le pari opportunità per il percorso che ho fatto fino adesso e che nell'accezione ampia che questa tematica dovrebbe avere non ho riscontrato nessun nessun indizio che ne parli e invece Sesto è sempre stata una città in passato inclusiva e accogliente per tutti quindi le pari opportunità devono essere sempre centrali per una città che è volta al futuro sul commercio è già stato detto anche dagli altri miei colleghi leggevo giusto oggi e ribadisco ancora che ci sono alcune zone di Sesto San Giovanni come ad esempio Villaggio Falchi e Pelucca che in questo momento si ritrovano senza neanche avere un panettiere un lattai un alimentare in cui recarsi questo per gli anziani è molto difficile come situazione in quanto si devono molto spesso appoggiare alla buona volontà dei vicini che li possano aiutare tutto questo grazie a lei consigliera Floridi se non ci sono prego consigliere Galante grazie presidente abbasso la mascherina perché altrimenti mi si appannano gli occhiali allora nel dupe si parla di istituzione degli ispettori anti-degrado che si muoveranno nei quartieri per controllare lo stato si parla anche di una squadra di pronto intervento nella squadra anche addetti al taglio del verde rimozione dei rifiuti abbondanti che operano quotidianamente in città aspico che vengono utilizzati i preziosi percettori del reddito di cittadinanza come sono stati impiegati nel recente nel centro tampone istituito in via 20 settembre si punta a incrementare la raccolta differenziata attraverso l'installazione di contenitori appositi lungo le strade in ambito residenziale con cassonetti a scomparsa si parla di raccolta quindi differenziata quindi si spera vi siano poi dei cassonetti dove ho la possibilità quindi di differenziare il rifiuto insomma è veramente come hanno appena detto i miei colleghi un libro dei sogni io lo chiamo più un libro delle favole il DUP a mio parere da documento unico di programmazione è passato a documento unico del pisolo i miei complimenti un libro perfetto delle favole è da circa una settimana che lo utilizzo tutte le sere per far addormentare i miei figli e a volte riesco anche a far addormentare i miei cani grazie a tutti ha chiesto la parola al consigliere Atanasio a facoltà di parola prego grazie presidente scusate un attimo così diamo sgombriamo un po' il problema di essere collegati mi mette in condizione di vedere in collegamento solamente in remoto quindi non riesco a vedere tutto quindi abbiate un po' anche la compiacenza se avete necessità di parlare magari di alzare la mano e di gesticolare perché non mi è possibile materialmente vedere tutto ok è uno sforzo che stiamo facendo successivamente passeremo alla dichiarazione di voto mantenendo la scaletta così vediamo anche se il sistema regge però dovete capire tutti che è un momento di prova con grande difficoltà ok grazie mille grazie presidente anche per la sua precisazione niente io volevo parlare anche io qualcosa del DUP documento d'unico di programmazione che è un documento importantissimo per tutti noi e per la nostra città perché detta le linee guide di questa amministrazione è come le altre precedenti in pratica quindi ringrazio gli assessori e i consiglieri che hanno collaborato alla stesura di questo di questo documento come ho detto questo documento è la programmazione di tutti i lavori che dovranno essere realizzati nei prossimi tre anni però voglio in particolar modo è tutto molto importante però anche per la nostra lista di Stefano tutto ciò che riguarda la modernizzazione i lavori della città è importante i punti fondamentali comunque per noi rimangono sempre sicurezza e lotta al al degrado l'imbronto dell'amministrazione comunale è ben visibile nel documento unico di programmazione poi a proposito delle politiche di sicurezza una nostra grande priorità voglio citare un paio di aspetti l'introduzione del del turno notturno della polizia locale una promessa mantenuta con la città è la programmazione della chiusura dei parchi cittadini che in primis sono in lotta proprio per queste cose qua con le apposite cancellate in modo da evitare episodi di vandalismo e degrado assicurando allo stesso tempo ai cittadini una fruizione tranquilla e decorosa dei parchi perché anche importantissimo il progetto dell'installazione delle telecamere sarà sarà per noi molto importante inoltre un'attenzione molto molto particolare che che a me sta molto a cuore e anche a Ghezzi anche al consigliere Ghezzi perché noi non ci vai molto a cuore è il tema è il tema è una cosa che noi ce l'abbiamo veramente qua tengo a precisare che che ciò che il DUP prevede caro consigliere Vino caro consigliere dell'opposizione lo so che per voi anche anche per le precedenti amministrazioni era un libro dei sogni sì mi do ragione io dieci anni che sono sul territorio veniva a vedere i consigli comunali eh anche io dicevo allora anch'io ma lì ci sono i burratini ci sono i soldatini schiacciano solo i bottoni in pratica sono schisciabottoni mi do ragione no ed era veramente effettivamente il libro dei sogni perché io in dieci anni del DUP di quelli che dovevano fare non l'hanno mai fatto no quindi speriamo speriamo che anche questo DUP ma penso proprio così che non lo lasciamo nel dimenticato assolutamente sono progetti che tutti vogliamo e sono sicuro che li realizzeremo la maggior parte anche prima della fine del nostro mandato poi fra un anno e mezzo come dice il consigliere Vino ci confrontiamo voglio ricordare a tutti detto da un cittadino prestato alla politica perché vi ricordi io non sono politico ma sono un cittadino di strada no? prestato alla politica che anche la semplice buca e piccolissimi lavori in generale vanno affrontati sono importantissimi secondo me non l'ho mai detto lo dico stasera così è un è un mio è un mio pallino creando anche un piccolo fondo per assicurare la sicurezza e la fiducia dei nostri cittadini e con questo concludo dirò qualcosa magari ancora dopo vi ringrazio grazie a tutti grazie a lei consigliere Etanasio non ci sono altri interventi consigliere Molteni prego grazie presidente allora io capisco che ognuno qua debba fare il proprio ruolo e la politica probabilmente prevede quello un dato tipo di politica ho sentito credi critiche su questo dup sul numero dei daspo sull'abbandono dei rifiuti che non viene risciato come se eh questo fosse non so certo che lo si sta combattendo con quello che si riesce a fare mi sembra che anche tutta la ristrutturazione non so della piattaforma ecologica eccetera eccetera non sia poca cosa poi non entro poi nelle partite di quelle che mi vedono magari anche così forse impreparato non lo so comunque core cap appalti dei rifiuti eccetera eccetera vediamo così al volo si parla del commercio di vicinato allora sì certo che non siamo riusciti ad aprire il panettiere in alla pelucca ma cioè questo è un desiderio ma ci vuole anche chi lo voglia chi lo vuole fare possiamo anche dire va bene guardati diamo la possibilità di mettere fuori i tavolini però se l'imprenditore non ci va non è che colpa dell'amministrazione purtroppo è una realtà di abitanti che ha fatto sì abitanti numero di abitanti no sempre sul commercio di vicinato vorrei un attimino ricordarvi io rispondo così al volo e mi dia il tempo quando sono vicino perché non l'ho preso che in questo periodo abbiamo siamo stati uno dei primi comuni che ha dato la possibilità dell'estensione di occupazione del suolo pubblico per non penalizzare ulteriormente quelli che erano in questo caso ristorazione bar eccetera ma sempre commercio di vicinato voglio ricordarvi che non più tardi di qualche settimana fa abbiamo votato tutti insieme una delibera che sì è vero che era la concessione sullo spazio dell'ospedale di Sesto ma la creazione era io l'avevo messa nel mio intervento che la vedevo molto favorevolmente perché anche quello era uno stimolo al commercio di vicinato poi si è parlato per esempio degli eventi culturali allora io non voglio prendere covid come unica scusa però se citato il carroponte signore forse è stato un esempio dei più infelici perché non parliamo della gestione del carroponte quello che ci era stato in passato parliamo di quello che e non è entro parliamo di quello che abbiamo cercato di fare noi c'era una programmazione più che buona c'era un imprenditore eccetera poi è successo quello che è successo dire che adesso che questo è il libro dei sogni perché così poi c'era un'altra cosina che volevo dire ecco queste sono cose so che adesso qualcuno salterà sulle sedie però parliamo appunto di questi particolari che uno li può giudicare più o meno importanti ma tutto è importante poi però vediamo anche le grosse opere le grosse imprese in cui ci siamo lanciati parlo di piscine parlo del salvataggio di tutta la struttura che l'ha fatto un privato va bene della prosesto tutto quello che stiamo facendo sui parchi insomma non è che mi sembra non mi sembra che sia solo dei sogni o un elenco di cose che fanno addormentare anche i cani mi fa piacere perché anche la cura dell'insonnia è sicuramente una cosa importante posso garantire che fior di medici non riescono a curarle passeremo il nostro dubbio come metodo curativo un'ultima cosa visto che si diceva che in fondo alle frasi compatibilmente alle risorse finanziarie a me hanno insegnato che si possano fare anche i matrimoni con i fichi secchi ma ci vogliono i fichi anche grazie grazie a lei non ci sono altri interventi chiudo la discussione procediamo alla dichiarazione di voto scusate un attimo lista civica giovanissimi estesi consigliere vino prego grazie presidente discutere in cinque minuti del dupe è veramente triste detto proprio così consigliere moltieni la cosa infelice l'ha detta il suo collega Pasquinelli perché l'unico che ha citato il carroponte è stato il consigliere Pasquinelli da questa parte nessuno ne ha parlato del carroponte consigliere Atanasio consigliere Atanasio io sono qui dentro per fare politica perché qua dentro si fa politica non si fa altro non si riparano le buche le buche le riparano altri professionisti noi qua facciamo politica quindi lei si è candidato a questa aula a fare politica quindi non venga a fare ah io sono un cittadino prestato che tanto la realtà ci teniamo alla dichiarazione di voto per quanto riguarda invece chiaramente la dichiarazione di voto il voto della lista civica dei giovani sestesi non può essere non può essere che che contrario ma ripeto con tutti i temi che ci sono all'interno del DUP parlare in pochi minuti lo trovo veramente grazie 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 sesto al primo posto consigliera Floridi a lei la parola buonasera presidente grazie voto contrario grazie movimento 5 stelle consigliere Galante prego grazie presidente la dichiarazione di voto la fa il mio collega Vincenzo di Cristo che tra l'altro approfitto per salutarlo visto che prima se poi gentilmente me lo dice prima la ringrazio parola consigliere di Cristo prego sì grazie presidente buonasera innanzitutto saluto tutti i consiglieri prossima volta avvisiamo subito ma il nostro voto sarà contrario portiamo subito i fatti che questo sembra ed è di fatto un libro dei sogni un caso emblematico ma giusto uno per citarne perché ho la controprova che sono andato a controllare adesso non mi ricordavo la data tutti sempre continuiamo che questo PEBA sta a cuore a tutti soprattutto alla maggioranza allora 24 settembre associazione dei cittadini Cascinagatti si ritira dal PEBA e recentemente dopo ben quasi un anno ho ricevuto risposta alla mia interrogazione sulla figura del disability manager che era stato proposto con mozione presentata a sottoscritto nel 2018 e siamo ancora in alto mare quindi questa è la dimostrazione che questa amministrazione parla dei sogni ed è un fatto e per questo motivo ma non solo per questo ma proprio per tutto l'iter che questa amministrazione pensiamo faccia tanta comunicazione ma alla fine della fiera molto poco il nostro voto sarà contrario grazie grazie consigliere Di Cristo lista di Stefano sindaco consigliere Attanasio prego grazie presidente ripeto al consigliere Di Cristo cioè Di Cristo Scoccivino sono un cittadino prestato alla politica stop perché poi in futuro sto a casa tranquillamente a fare sempre quelle che ho fatto il cittadino il nostro voto è favorevole dichiarazione di voto identità civica consigliere Ghetsi grazie presidente consigliere Aperego non basta fare gli impianti ma bisogna poi abitarli bene se lei ha la ricetta magica per darci superpoteri per riuscire a reagire contro il covid penso che il sindaco ne vorrebbe subito un'iniezione perché è il primo ad avere tutto l'interesse che questo accada consigliere Vino come possiamo parlare di videosorveglianza come sfruttamento del privato ma per piacere ma di che cosa stiamo parlando sfruttamento del privato perché offriamo finalmente un canale diretto di contatto con le autorità al cittadino guardi che i cittadini sono ben interessati a sentirsi protetti ok e per quanto riguarda lei vuole chi ci mette vuol dire che ci crede e vuole una città diversa forse con questa amministrazione ne ha avuto finalmente la possibilità il nostro voto è favorevole grazie consigliere Lega Nord consigliere Pasquinelli grazie presidente favorevoli forza Italia consigliere Cozza grazie presidente favorevole partito democratico consigliera Perego grazie presidente allora io ho sentito dire che abbiamo fatto una serie di critica al numero di DASPO ma magari ci fossero i numeri del documento unico di programmazione il consigliere Attanasio ha rivendicato nel suo intervento l'accordo con la polizia locale mi corre l'obbligo sottolineare che è arrivata oggi la notizia della disdetta della sottoscrizione dell'accordo integrativo sulla notte per cui forse il consigliere Attanasio sogna ad occhi aperti poi il fatto che voi indichiate come risultato delle politiche dell'amministrazione comunale aver salvato la processo direi che dà la misura di quello che voi intendete essere la politica e di quello che per voi significa fare politica in città il nostro voto per questo sarà contrario grazie consigliera Perego amiamo sesto consigliere Molteni grazie presidente sono una precisazione il richiamo al carroponte l'ha fatto la consigliera Floridi questo può sentirlo non l'ha fatto il consigliere Pasquinelli grazie l'ha fatto ah bene allora l'ha fatto in due l'ha fatto in due e va bene io ho colto va bene e beh fatto in due va benissimo mi ha dato un doppio pretesto benissimo comunque per la dichiarazione di voto io sono un sognatore di conseguenza amiamo sesto vota favorevolmente grazie mettiamo in votazione la delibera al punto due favorevoli allora favorevoli 15 contrari di quelli presenti in sede 6 astenuti nessuno eh quelli invece in remoto favorevoli no un attimo dobbiamo fare in questo modo consigliere di Cristo deve dichiarare il suo voto ehm il nostro voto è no contrario contrario grazie consigliera Perego contrari grazie presidente grazie a lei consigliere Floridi contrari grazie presidente grazie a lei prego quindi con 15 voti favorevoli e 9 contrari la delibera è approvata votiamo per l'immediata eseguibilità favorevoli favorevoli 15 contrari 6 astenuti nessuno torniamo da remoto consigliere Vincenzo di Cristo prego contrario consigliera Perego contraria grazie presidente grazie a lei consigliera Floridi contraria grazie presidente quindi con 15 anche in questo caso 15 favorevoli e 9 contrari bene passiamo alla delibera al punto 3 assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 ai sensi dell'articolo dell'articolo comma 8 e 193 del decreto legislativo numero 267 del 2000 do la parola al sindaco Roberto Di Stefano grazie presidente allora questo documento è un documento obbligatorio per legge che l'ultima variazione dell'assestamento è quella di novembre prevede diciamo diverse attività che vengono svolti sul bilancio in particolar modo l'analisi su quelle che sono la gestione degli esercizi sull'esercizio dei residui la verifica dell'equilibrio di cassa e un'analisi su quella che l'equilibrio tra la parte corrente e quella in conto capitale partendo proprio dall'analisi sull'andamento della gestione dei residui come ho spiegato in commissione non ci sono elementi negativi che possono pregiudicare quello che è l'equilibrio del nostro bilancio così come la gestione della cassa rispetto alla data del 3 novembre data fotografia della delibera per quanto riguarda la predisposizione dell'equilibrio di bilancio il fondo cassa era pari a 11 milioni e 622 mila euro per quanto riguarda invece la parte più importante che è quella dell'equilibrio tra la parte corrente quella in conto capitale è palese che gli effetti della pandemia in particolare su quelle che sono le entrate iniziano ad avere i primi effetti in particolar modo si possono percepire già nell'immediato laddove si parla di un caso semplice visto che è stato citato da più consiglieri nella precedente del Libra del Caroponte dove a fronte di un canone d'affitto il DPCM prevede che quella tipologia di attività non può essere svolta e pertanto l'intero importo deve essere stornato altro discorso invece è per quanto riguarda il pagamento delle tariffe delle tasse quindi la parte tributaria e dei servizi che invece per quantificare e accertare in maniera corretta quello che il reale importo il documento voluto proprio dal governo è quello dell'accertamento dei tributi che viene eseguito l'accertamento delle entrate e del fondo crediti di dubbi esigibilità che viene eseguito in fase di approvazione del sarà eseguito in fase di approvazione del rendiconto del 2021 intorno al periodo di aprile quindi quelle che oggi noi andiamo a definire sono gli importi stimati stimati in base a quella che sono le disposizioni tendenzialmente del governo ovvero all'interno di quelli che sono gli interventi che lo stesso governo ha messo a disposizione per gli enti locali per i comuni i famosi 3 miliardi a copertura delle minori entrate dovute alla situazione covid quelle che noi siamo andati ad applicare per la quota parte che è spettata al comune che ricordo è di 4 milioni 608 mila 860 euro liquidate su due tranche va a coprire seguendo pedissequamente quelle che sono le disposizioni e le linee di guida del governo per la copertura delle minori entrate all'interno di quello che noi abbiamo definito anche in accordo con la stessa ANCI fondo potenziale di riduzione entrate praticamente il governo fa delle percentuali di stima a seconda di ogni tipologia di entrata che siano entrate tributarie che siano da servizi e sulla base di quello si calcola la percentuale di in base a quella percentuale indicata dai documenti del ministerio si calcolano gli importi da mettere in svalutazione come minore entrata e coperti dallo stesso fondo emergenza covid in commissione sono entrato più nel dettaglio ora vi do il numero la cifra finale praticamente quello che è l'equilibrio di bilancio abbiamo come minori entrate connesse a quella che è la situazione di bilancio dovuta molto alla conseguenza epidemiologica una minore entrata di 6 milioni 834 mila euro parallelamente però oltre ad aver minore entrate ci sono anche delle minori spese da parte dell'ente che riportano in equilibrio il bilancio faccio un esempio su tutto durante il periodo del lockdown determinate attività sono state chiuse oltre ad avere le minore entrate abbiamo avuto anche delle minori spese per quanto riguarda la copertura di determinate attività le minori spese avute dal comune cubano 2 milioni 460 mila euro quindi basta fare la differenza tra l'importo di minor entrata e l'importo di minor spesa e il delta è praticamente quello che ci ha stanziato il governo come fondo di emergenza covid alla luce delle considerazioni quindi ad oggi il bilancio va in equilibrio grazie a quelle che il fondo che è importante chiarire che non va a sostituire il fondo crediti di dubbia esegibilità va a incrementare così queste sono le disposizioni di legge per quanto riguarda invece la variazione dell'assestamento ci sono diverse voci di maggiore entrata a cui corrispondono una maggiore spesa in particolar modo si parla di entrate vincolate finalizzate a specifiche attività contributo della regione per il sostegno di 314 mila euro per mantenimento dell'alloggio in locazione finalizzato proprio all'emergenza covid 230 mila euro sempre trasferimenti della regione per l'assistenza educativa agli alunni con disabilità 205 mila relativi a maggiori entrate del contributo dell'energia termica termica da fonti rinnovabili stabilita nell'accordo con la piscina per quanto riguarda la realizzazione dell'efficientamento energetico della piscina De Gregorio 57 mila euro del progetto europeo Horizon 2020 180 mila euro sempre della regione a sostegno delle locazioni in 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 tempo di emergenza il fondo nazionale per la lotta alla povertà e l'esclusione sociale 666 mila euro 70 mila euro contributo per gli investimenti della progettazione della caserma dei carabinieri 166 mila euro maggiori entrate e maggiori uscite per la copertura di attività sulla comunità alloggio in caso di emergenza alla luce di queste maggiori entrate dovute da finanziamenti e trasferimenti della regione dello Stato e anche europei essendoci un progetto europeo il bilancio è in equilibrio sia per quella che è la gestione di competenza che per quanto riguarda i residui attivi e passivi sia per la parte corrente che per la parte di investimenti grazie grazie a lei signor sindaco apro la discussione non ci sono interventi consigliera Chittò prego grazie presidente no più che un intervento una sottolineatura e anche una battuta che i colleghi mi permetteranno visto che questa sera come dire si parlava di libro dei sogni eh anch'io sogno occhi aperti ho ascoltato le parole del sindaco già in commissione devo dire e le ho riscoltate questa sera incredibilmente riconosce un ruolo al governo perché in effetti ha molto ben evidenziato come eh a fronte di eh minori entrate come avevamo chiesto di poter avere noi già prima eh dell'estate ipotizzate ovviamente di minori entrate di circa sei eh milioni e ottocento mila euro da parte dell'ente comune e di minori spese di due milioni e quattrocentomila euro ecco che ritroviamo più o meno quello che è il contributo mettiamolo così del eh del governo ovviamente poi tutto sarà da rivedere di definire a chiusura completa però questo riconoscimento politico da parte dello stesso sindaco che poi nottetempo giorno o di giorno insomma fa degli degli spot invece molto politici e assolutamente come dire ostativi o positivi nei confronti del ruolo del governo credo che invece debba essere come dire un'attenzione che tutti noi che dobbiamo avere che abbiamo come dire un sindaco che gioca un doppio ruolo è una sorta di eh Giano Bifronte va benissimo a noi ci fa molto piacere ovviamente non ci sono soltanto i contributi governativi ci sono anche tanti altri contributi credo che in questo momento l'importanza delle risorse che arrivano e che devono essere finalizzate un'emergenza territoriale che l'emergenza per tutti i cittadini debba essere valorizzata ivi compreso il fatto che alla fine se il bilancio torna a fronte di questa devastante pandemia che riguarda sicuramente prima di tutto e la salute di tutti i cittadini dei nostri concittadini e non soltanto ma che riguarda anche purtroppo una pesantezza economica che ricade sulle tasche delle tante persone che vivono vivono la città in parte viene anche come dire aiutata da un importante intervento di questo governo grazie grazie a lei consigliere Chittò non si è prenotato nessun altro consigliere chiudo la discussione procediamo alla dichiarazione di voto lista civica giovani sestesi consigliere vino grazie presidente il voto della lista civica dei giovani sestesi è un voto contrario sesto al primo posto consigliera Floridi grazie presidente astenuti astenuta movimento 5 stelle consigliere grazie grazie presidente anche io vorrei sottolineare appunto l'abbondante aiuto che ci ha fornito il governo durante questa emergenza covid e per quanto riguarda la delibera il nostro voto è contrario sarà contrario grazie boh lista di Stefano sindaco consigliere consigliere recupero il nostro voto è favorevole grazie identità civica consigliera Iosa grazie presidente il nostro voto sarà favorevole ringraziamo anche noi molto questo governo che darà questi fondi per andare ad incrementare le perdite che il comune avrà anche perché non avendo altri aiuti in nessun modo credo che poi tutti gli aiuti verranno chiesti ai comuni di conseguenza siamo molto felici che poi i comuni potranno usare questi soldi per andare ad aiutare i loro cittadini naturalmente ringraziando il governo per questo aiuto il voto non potrà che essere favorevole lega nord consigliere Pasquinelli forza Italia consigliere Cozza anche noi non possiamo non ringraziare il governo per questo generoso contributo grazie al quale il bilancio del comune sarà in equilibrio peccato che grazie agli aiuti del governo sarà l'unico bilancio perché quelli delle imprese che non hanno ricevuto nulla non saranno così floridi quelli dei commercianti quelli degli artigiani quelli dei ristoratori dei professionisti delle famiglie delle scuole delle scuole paritari tutti gli altri che non hanno ricevuto assolutamente nulla se non vaghe promesse dal governo non saranno in equilibrio comunque grazie al governo e quindi votiamo favorevole consigliera Perego Partito Democratico prego grazie presidente il nostro voto sarà di astensione amiamo sesto consigliere Molteni grazie presidente e mi unisco anch'io ai ringraziamenti dovuti ci mancherebbe anzi grazie per questo e proprio per questo ringraziamento non possiamo che essere favorevoli difficile essere contrari quando si ringrazia no? per cui il nostro voto sarà favorevole grazie consigliere Molteni passiamo alla votazione della delibera tre consigliere consigliere che si la prego cortesemente di accomodarsi nella sua postazione perché dobbiamo votare votando anche così ci diventa un po' più complicato grazie mettiamo in votazione la delibera favorevoli quindici favorevoli contrari due contrari astenuti 4 astenuti passiamo passiamo alla votazione a remoto consigliere Vincenzo Di Cristo dichiari il suo voto contrario consigliera Perego astenuta consigliera Floridi astenuta prego con quindici voti favorevoli tre contrari e sei astenuti la delibera è approvata votiamo per l'immediata eseguibilità favorevoli quindici favorevoli contrari due contrari astenuti quattro astenuti passiamo in remoto in remoto favore consigliere Di Cristo prego contrario consigliera Perego astenuta consigliera Floridi astenuta quindi quindici favorevoli tre contrari e sei astenuti la delibera è immediata eseguibilità passiamo alla delibera al punto quattro riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo cento novantaquattro comma uno del decreto legislativo numero duecentosessantasette del duemila do la parola al sindaco Roberto Di Stefano grazie presidente eh questa è una delibera tecnica obbligatoria per legge in quanto ehm i debiti fuori bilancio devono obbligatoriamente essere approvati dal consiglio eh comunale si tratta di due fatture di due ehm pagamenti che sono pervenuti all'amministrazione un po' datati fanno riferimento a degli impegni ehm a degli ordini fatti per delle batterie da destinare al centro di urno disabili di via Boccaccio una datata trenta settembre del duemila e sedici e l'altra del ventotto ottobre del duemila e sedici entrambe ehm entrambi gli ordini senza un impegno di spesa eh nel bilancio corrispondente pertanto a tutti gli effetti hanno il eh criterio contabile del riconoscimento del debito fuori bilancio grazie grazie a lei signor sindaco apro la discussione procediamo alla dichiarazione di voto lista civica giovani sestesi consigliere paolo vino sì grazie presidente il voto della lista civica dei giovani sestesi è un voto di contrarietà sesto al primo posto consigliera floridi grazie presidente astenuta movimento cinque stelle consigliere galante grazie presidente il movimento cinque stelle si asterrà dalla votazione lista di stefano sindaco consigliere attanasio grazie presidente no mi viene da ridere perché meglio è vera ma lasciamo perdere il nostro voto è favorevole grazie identità civica consigliera iosa grazie presidente favorevole lega nord consigliere Pasquinelli grazie presidente favorevoli forza italia consigliere cozza grazie presidente favorevole partito democratico consigliera perego grazie presidente interessante vedere che il sindaco ha parlato di più di due fatture di due servoscala dei centri diurni disabili che di un intero documento unico di programmazione per l'amministrazione comunale il nostro voto sarà di astensione amiamo sesto consigliere Molteni grazie presidente il nostro voto sarà favorevole procediamo alla votazione della delibera al punto quattro favorevoli quindici favorevoli contrari un contrario astenuti quattro cinque passiamo consigliere da remoto consigliere vincenzo di cristo prego sì astenuto grazie presidente consigliera perego astenuta grazie presidente consigliera floridi astenuta grazie presidente grazie a voi quindi con quindici voti favorevoli un contrario otto astenuti la delibera approvata votiamo per l'immediata eseguibilità favorevoli quindici favorevoli contrari un contrario astenuti cinque astenuti passiamo la votazione da remoto consigliere vincenzo di cristo astenuto consigliera perego astenuta consigliera floridi astenuta quindi quindici favorevoli un contrario e otto astenuti la delibera è immediatamente eseguibile passiamo alla delibera al punto cinque concessione della progettazione esecutiva della riqualificazione della gestione per un periodo di trentacinque anni delle piscine comunali coperte De Gregorio e Olimpia nel comune di Sesto San Giovanni in esecuzione di accordo di programma tra comune di Sesto e regione Lombardia verifica delle condizioni di equilibrio economico finanziario della concessione tramite il deposito del piano economico finanziario aggiornato e asseverato do la parola all'assessore la Miranda prego assessore a facoltà di parola grazie presidente buonasera a tutti anche da parte mia una delibera molto semplice e lineare in continuità con l'approvazione che avevate fatto come consiglieri comunali del project sottoponiamo all'approvazione sempre dell'aula il piano economico finanziario aggiornato a seguito ovviamente delle vicende anche dell'emergenza pandemia e al tempo stesso del parziale risparmio prego presidente mi chiedo scusa mi corre l'obbligo di ricordare ai presenti di tenere la mascherina in modo corretto nel rispetto dei colleghi presenti in aula grazie chiedo scusa assessore per l'interruzione prego presidente ci mancherà sto dicendo la delibera quindi volge semplicemente a rimettere in ordine un attimo i tempi dei contributi finanziari derivanti dalla riorganizzazione da parte del soggetto attuatore e dell'impegno di spesa complessivo dell'investimento che andremo adesso a declinare e a dare atto delle coperture economiche che si sono concretizzate e materializzate a garanzia dell'investimento e del project rimane immutato il progetto in questo caso esecutivo tant'è che i lavori sono in corso rimane immutata la durata del project che avevate già licenziato in 15 anni si innesta sul piano economico finanziario precedentemente da voi votato un aggiustamento di riequilibrio perché da un costo iniziale previsto di 7 milioni e 60 mila euro si scende a un costo reale di 6 milioni e 976 mila euro 915 che viene coperto finanziariamente nel seguente modo attraverso un contributo regionale in realtà lo troverete come dicitura come contributo comunale perché la regione ha fatto la reversale a nostro favore e noi quindi finanziamo l'intervento per un milione e 600 mila euro quindi questo è il famoso cofinanziamento regionale l'elemento di novità è il contributo termico per un milione e 236 mila euro di cui vi chiediamo appunto di autorizzare la sottoscrizione da parte del dirigente dell'area tecnica dell'atto integrativo alla convenzione proprio per questa quota parte di finanziamento ed infine la residuale da parte di 4 milioni e 140 mila euro si finanzia in parte con finanziamento bancario e in parte con ricorso a risorse proprie da parte del gestore in particolar modo per 3 milioni e 610 con garanzie fideiussori e finanziamento bancario e rimanente per equiti e risorse proprie dell'ente questo è il quadro complessivamente che andiamo a sottoporre l'ultima questione che volevo evidenziare da lasciare gli atti è il riequilibrio dei tempi di investimento nel senso che rimanendo pur confermati i 35 anni deve essere riallineato il piano dell'ammortamento iniziale dell'investimento e soprattutto dell'esercizio economico perché risulta sballato e differito per questi mesi di blocco cantieri quindi pur mantenendo complessivamente 4 semestri per realizzare l'intervento di riqualificazione delle due piscine abbiamo un riallineamento tra costi e ricavi quindi andare in esercizio ordinario alla scadenza del 2024 questo è quanto poi in commissione avevamo maggiormente sviluppato non mi sembra il caso adesso di andare qui a riprendere il tutto grazie grazie a lei assessore apro la discussione non ci sono interventi consigliera perego prego ok grazie presidente scusi ma non si sa mai come appunto qua prenotarti allora rispetto a questa delibera le criticità che come partito democratico avevamo già sottolineato che ci portavano ad alcune perplessità restano è vero che si tratta di un adeguamento del piano economico finanziario però è anche vero che a monte c'è un progetto su cui noi avevamo espresso delle perplessità che riguardavano ovviamente una gestione considerata eccessivamente lunga ricordo questi 35 anni ma soprattutto avevamo discusso in quell'occasione in consiglio comunale del fatto che per noi del partito democratico il passaggio in secondo piano dell'aspetto sportivo rispetto invece all'aspetto più semplicemente ludico non ci convinceva con il fatto che entrambe delle strutture fossero prive ad esempio di spazi per le competizioni federali per l'agonismo questo ci lasciava assolutamente perplessi rispetto al nuovo piano economico finanziario noi prendiamo atto delle spiegazioni insomma dell'illustrazione che ci ha fatto l'assessore la miranda sia in commissione che anche questa sera per cui lo ringraziamo è anche vero che però rimane comunque un bonus per noi consiglieri cioè il fatto che una documentazione così importante anche così completa dal punto di vista tecnico richiede ovviamente la possibilità per i consiglieri di poter essere esaminata con ampio margine di tempo anche perché non tutti i consiglieri hanno le competenze tecniche economiche finanziarie per leggere un pezzo e magari appunto hanno bisogno in questo senso di essere evitati anche dal punto di vista tecnico per cui su questo anticipo già anche la dichiarazione di voto il voto del partito democratico sarà di astensione grazie consigliera Perego si è presentato prenotato scusate il consigliere recupero a facoltà di parola prego grazie presidente buonasera a tutti e buonasera sia i presenti che in remoto buonasera a tutti allora quando ci siamo insediati abbiamo trovato entrambe le piscine coperta la De Gregorio e l'Olimpia in condizioni di gravissimo degrado in particolare il primo dicembre 2018 in esecuzione di un dispositivo emanato dalla TSD città metropolitana è stata chiusa la De Gregorio mentre l'Olimpia denotava a sua volta insufficienti strutturali e impiantistiche pertanto ci siamo fin da subito attivati per mettere al centro i nostri programmi di lavoro nonostante le difficoltà causate dal covid i lavori alla De Gregorio sono ripartiti a fine ottobre e con l'inizio del nuovo anno potremo aprire anche il cantiere dell'Olimpia si tratta di progetti di riqualificazione a rilevanza regionale in grado di dotare nuovamente un ampio bacino di utenza di strutture di riferimento sportivo e sociale con serietà e programmazione procediamo dunque per rinnovare completamente gli impianti e dare alla città piscine sicure e moderne presti se estesi potranno avere strutture moderne e scusate se mi ripeto sicure ed efficienti con un forte impatto anche sui comuni limitrofi al nostro grazie grazie a lei consigliere recupero non ci sono altri interventi neanche da remoto chiudo la discussione consigliere prego Bassecchi prego prego grazie buonasera presidente grazie la parola e buonasera a tutti i colleghi consiglieri ho una mia concezione che una minoranza dovrebbe secondo me esprimersi in modo diverso essere più propositiva e valorizzare di più soluzioni alternativi e devo dire che non sto sentendo non sto sentendo in consiglio comunale posizioni di questo tipo consigliere leo per cortesia facciamo parlare il suo collega visto che ci ricordiamo sempre il regolamento e la buona creanza allora sono molto legato a queste delibere che stanno dimostrando l'impegno dell'amministrazione sulla riapertura delle piscine perché mi ricordano proprio un momento in cui io ho sviluppato la decisione di un mio impegno civico impegno politico non necessariamente partitico ideologico ma politico ero da genitore cittadino genitore presidente di un cosiddituto partecipante alla scorsa legislatura nella consulta dello sport era il 2015 quindi ho assistito in diretta alla scadenza del bando di gestione delle piscine da parte della federazione nuoto ho assistito in una serata drammatica in una riunione della consulta a una lite verbale non solo verbale tra ciò che rimaneva del nuoto sestese che in quella sede ha decretato proprio la sua fine da lì mi sono reso conto che non era possibile che in una città come la nostra lo sport fosse gestito in quel modo se arrivasse a quei toni e che fosse un degrado tale addirittura nei rapporti umani fra le persone lì è nata la scintilla per me che poi si è concretizzata dopo tre anni di partecipare alle lezioni per poter poter contribuire in qualche modo nel migliorare la situazione cittadina che c'era vado a concludere brevemente perché sono contento che ci sia questo impegno che come consulta dello sport non sto seguendo personalmente perché la consulta si occupa dello sviluppo della promozione sportiva e non dell'impiantistica ma perché perché sesto deve dare una risposta ai cittadini che in questo momento migrano continuamente in altri cittadini e le mitrofe quindi tante sono le mamme che mi dicono che hanno difficoltà a portare in piscina e che non sono in città i bambini facendo conciliare orari e quindi scuola e attività sportiva c'è un mondo sportivo se stese io non sono un notatore però vedo che è uno sport molto diffuso a cui molti sono interessati e non trovano un'espressione possibile qui a livello cittadino auguriamoci che non succedano altre problematiche che la continuità nei lavori che stanno riprendendo adesso abbiano e possano mantenere il loro cronoprogramma certi cronoprogrammi sono anche determinati a livello ministeriale perché l'apertura o non apertura di certi cantieri non è certo legato solo a un discorso dell'amministrazione ma sono delle norme che arrivano a livello governativo perché mi interessa che rinasca un movimento sportivo e rinascono perché si sono anche sciolte delle società di nuoto perché mi piacerebbe chi sarà in futuro il prossimo presidente della consulta dello sport possa avere come interlocutore qualcuno che si occupa attivamente di nuoto in città in modo tale che le problematiche le richieste le esigenze dello sport nuoto possono essere degnamente rappresentate all'interno di una consulta apprezzo quindi il percorso che sta facendo l'amministrazione senza dover elencare tutti perché già è anche stato fatto del rinnovamento di tutti gli impianti dove poi si pratica lo sport e contemporaneamente tutto ciò che viene fatto a livello cittadino come promozione sportiva su questo il gruppo di identità civica nella mia figura nella figura del consiglier Ghezzi siamo molto impegnati a seguire questi progetti e quindi ci auguriamo che lo sport se estese riesca anche visto gli ultimi traguardi raggiunti ad avere la possibilità di avere una sua notorietà e una sua dignità maggiore rispetto al passato grazie grazie do la parola al consigliere Vino prego consigliere a facoltà di parole grazie presidente parto da quest'ultima frase che ha detto il consigliere Valsecchi rispetto al passato per fortuna per fortuna non lo so io sin da piccolo ho partecipato a quella che era l'attività politica di questa città non è un segreto che mio padre prima di me ha fatto il consigliere comunale non è un segreto che mio padre ha partecipato nella giunta di Fiorenza Bassoli all'osservatorio ambiente ma mi preme sottolineare consigliere Valsecchi la storia del partito socialista insieme al partito comunista a suo tempo quando creò lo sport a Sesto San Giovanni non è una consulta in come succede in questo momento o come c'era prima che elogiava lo sport erano gli atleti le presenti amministrazioni ci credevano nello sport ma ci credevano tanto oggi la politica fa un passo a lato perché sono i privati che stanno venendo qui ad investire e a rilanciare alcuni pezzi della città quindi siamo ben felici che ci sia una partecipazione ma dire che nel passato non andava niente bene mi scusi questa città è stata cucina di tantissimi atleti a livello nazionale e anche mondiale per cui guarderei un pochino è vero avanti ma allo stesso tempo non rinnegherei tutto il lavoro fatto da chi ha fatto politica prima di noi in questa città e ha rilanciato e ha fatto crescere lo sport sotto tutti i profili sia sportivo che anche delle persone grazie grazie a lei consigliere non ci sono altri interventi consigliere Galante prego grazie presidente grazie colleghi è vero io volevo fare solo una precisazione effettivamente con la passata amministrazione si è vista svanire una società sportiva a livello natatorio che è la GEAS che vantava risultati anche a livello nazionale con questa amministrazione attualmente non abbiamo neanche una piscina a disposizione di conseguenza i nostri atleti sono costretti ad andare attualmente intendo sono costretti ad andare a nuotare nei città limitrofe abbiamo fiorfiori di nuotatori a sesto che si sono classificati anche a livello nazionale la società GEAS ha preso addirittura il secondo posto al di là di questo attualmente comunque mi permetto di nuovo di evidenziare che non abbiamo una piscina a disposizione c'è solo una piscina privata allora volevo fare una domanda se esiste ancora un PI per la costruzione di un centro natatorio nell'area decappaggio piuttosto che un centro ludico balneare in via generale al cantore quindi se esiste ancora esisteva ancora quindi questa possibilità prima di mettere in mano alla programmazione dei lavori delle tre piscine quindi una gestione magari delle tre piscine in maniera diversa magari chiudevo prima una piscina permettevo quindi l'attriti sestesi di allenarsi per poi una volta finita riprendevo diciamo riprendevo i lavori nell'altra piscina e la portavo a termine quindi il discorso era proprio questo qua non avere una mancanza di una vasca per i tanti atleti sestesi quindi quello che voglio dire è proprio questa questa cosa qua nel senso attualmente abbiamo una piscina abbiamo le piscine che sarà la prima piscina che sarà pronta è la del Gregorio e a quanto pare sarà in funzione a settembre del 2021 poi a seguire vi sarà l'Olimpia nel 2022 quindi attualmente aspettiamo quasi due anni prima di poter rimmergere i nostri atleti nelle acque di Sesto San Giovanni un'altra precisazione la nuova la nuova piscina verrà quindi gestita per 35 anni da privato i prezzi se avete avuto la possibilità di reggere le tabelle sono dettamenti diversi perlomeno per quanto riguarda il nuoto libero parliamo di un'entrata di 7 euro e 50 mentre prima era pressoché la metà quindi io come un'impressione che che vi sia un po' un abbandono del bene del bene comune ecco grazie grazie a tutti grazie a lei non ci sono altri consigliere Molteni no c'era va beh dai consigliere Molteni prego a facoltà di parola ho bruciato no io sono sempre in difficoltà ogni tanto nel senso che prendo atto della chiusura del Geas nuoto in realtà a me è particolarmente cara io ho imparato a nuotare lì con i vigili urbani che facevano c'era Saggioro c'era Pavanello mi sembra Paravano per dei nomi per cui e le mie figlie ci hanno nuotato tanto volevano addirittura che diventassero agoniste ma vabbè al di là di questo adesso mi si dice adesso non abbiamo un posto dove far bagnare i piedi ai nostri atleti ma scusate ma ci vuole un po' di di fegato a dire che la responsabilità è nostra certo non siamo riusciti dopo sei mesi a rimetterle a nuovo completamente forse non non è chiaro cosa vuol dire rifare una piscina le condizioni indipendentemente da tutto per costi non è polemica erano sono dati di fatto erano veramente disastrose c'erano i tubi innocenti che trevano sul fondo della piscina della della De Gregorio per cui adesso poi ci si mette e mi dispiace menarla sempre sulla storia del covid però anche quello i tempi ce li ha rallentati poi vuole discutere si vuole discutere sul prezzo sul significato meno agonistico e più commerciale eccetera ok però non dite per favore che responsabilità nostra se adesso le piscine non sono aperte ecco questo era il mio pensiero grazie grazie consigliere Ghezzi purtroppo l'intervento è già stato ok non ci sono altri interventi chiudo la discussione Assessore mi ha chiesto la parola per un qualche minuto prego grazie volevo dare riscontro alle interrogazioni dei consiglieri richiamando però una maggiore attenzione nel formulare i quesiti rispetto al passato senza valersi della frase mitica ma io non c'ero perché purtroppo non funziona nel senso che fare i consiglieri non è solo una passeggiata o una passarella è anche un obbligo non è solo l'obbligo di presenza ma è anche l'obbligo di studiare di documentarsi e di venire in aula preparati le due domande che ci sono state poste se esistesse ancora il PI vulcano per realizzare le piscine innanzitutto non è un PI che realizza la piscina ma è semmai una delibera di giunta che approva o meno la realizzazione di un impianto sportivo in questo caso esiste una delibera di giunta di questa amministrazione che ha revocato quella proposta di piscina anche a seguito della rinuncia del contenzioso da parte del soggetto proponente per quanto riguarda invece il general cantore sfugge all'interrogante che in quest'aula è passata una delibera di consiglio comunale che ha modificato il project iniziale su cui era inizialmente previsto un impianto acquatico in forza di che cosa? proprio in forza della nuova visione che avevamo come amministrazione di costruire e di concentrare le risorse sugli impianti natatori esistenti per il qualificato quindi la teoria uno vale uno vale poco grazie assessore procediamo alla dichiarazione di voto lista civica giovani sostesi consigliere vino prego grazie presidente abbiamo detto più volte quando un soggetto privato viene di investire nella nostra città è chiaramente il benvenuto non ho capito l'unica cosa ma poi approfondiremo bene nel guardare la documentazione se questi centri rimarranno in prevalenza ludici oppure se ci sarà la possibilità di fare competizioni di preparazioni atletiche e robe del genere questo mi sfugge in questo momento però detto questo ripeto riqualificare due impianti nel nostro territorio benvenga per cui il voto della lista civica dei giovani sestesi è un voto di astensione sesto al primo posto consigliera Floridi grazie presidente continuiamo a ritenere che la valorizzazione delle piscine per uso sportivo e agonistico sia fondamentale per la città tuttavia ci sono anche delle condizioni che ci perplimono riguardo ai prezzi soprattutto in primo luogo il mio voto è di astensione Movimento 5 Stelle consigliere Galante grazie presidente posso rispondere all'assessore la Miranda no la mia era solo una domanda comunque comunque il movimento non è una discussione il Movimento 5 Stelle sasterrà dalla votazione grazie lista di Stefano Sindaco consigliere Attanasio grazie presidente vorrei ringraziare l'assessore e gli uffici competenti condivido l'intervento del consigliere di Cupero e il toto anche del consigliere Molpeni no che che veramente ha fatto un interventino giusto diciamo che come per la Carmen Lungo anche per le piscine coperte del Gregorio Limpia hanno avuto la necessità di una rivisitazione degli impianti e dopo il parere favorevole da parte dell'ATS e i vigili del fuoco siamo qui adesso per approvare questa questa modifica di delibera e anche del piano economico è una presa d'atto finalmente si vede si vede una luce per la De Gregorio la riqualificazione è già in atto perché con la con consegna prossima stagione si prevede settembre duemila e ventuno per l'Olimpia invece i lavori cominciano a gennaio duemila e ventuno con la consegna un anno inizio lavori lo dico questo perché il consigliere Calante aveva detto allora apremo le piscine fra insomma te la prego di concludere invece no comunque tutti i cittadini saranno contenti perché finalmente dopo la distruzione dopo la distruzione ci sarà la ricostruzione ed avranno le piscine nuove riqualificate nostro voto favorevole grazie identità civica consigliere Ghezzi grazie presidente ah ma per un attimo mi sono sentito dalla parte sbagliata non ho capito cioè le piscine siamo stati accusati che spingiamo il sindaco finisce sui giornali spinge sulla Carmel Longo vuole la piscina il suo programma elettorale adesso questa sera siete voi a dire che bisogna fare le piscine no grazie ha detto Molteni benissimo prima ma veramente mi sento vengo a sedermi lì vengo a sedermi lì consigliere Vino è facile quando dietro le società sportive poi il comune caccia soldi a spese di tutti i cittadini la musica è cambiata qui non funziona più così c'è la sussidiarietà cioè il privato che entra e che sostiene le opere non è più lo Stato è finito l'era dello statalismo il voto è positivo grazie consigliere Ghezzi Lega Nord consigliere Pasquinelli grazie presidente favorevoli dibattiti durante la discussione Forza Italia consigliere Cozza grazie presidente favorevole Partito Democratico consigliera Perego grazie presidente ma ci si può anche dire questa sera da parte del consigliere Valsecchi tutto contrito che è molto rammaricato del fatto che come consiglieri di opposizione noi non portiamo mai delle proposte mi viene da dire che tutte le volte in cui abbiamo provato a farlo siamo stati sempre respinti o c'è sempre stato detto cosa volete dire voi che avete appunto governato governato in modo modo stando a quello che si dice sulle piscine la invito formalmente il primo richiamo a smetterla per cortesia di parlare quando alla richiesta mi gli do la parola grazie sulle piscine noi addirittura una proposta l'avevamo fatta che era quella del mantenimento delle gradinate perché consigliere Molteni che dice io non so se andrà avanti l'agonismo oppure no la risposta da chi conosce per chi viene diretta il mondo dell'agonismo è che se non ci sono le gradinate in una piscina la piscina non è adatta per le gare federali questo significa precludersi tutta una serie di possibilità per le piscine e le strutture nuove avevamo fatto una proposta c'è stato risposto picche quindi non diteci che noi non siamo propositivi il nostro voto sarà di astensione mi chiedo scusa consigliere Aperego se l'ho interrotta amiamo sesto consigliere Molteni grazie presidente mi sembra che è stato si è stato anche recepito un parere un beneplacito da parte del CONI per cui anche questo potrebbe essere un ulteriore come posso dire aspetto positivo di questa operazione che andiamo svolgendo comunque il nostro voto sarà sicuramente favorevole grazie grazie a lei consigliere Molteni mettiamo in votazione la delibera al punto 5 favorevoli 15 favorevoli contrari nessun contrario astenuti sei astenuti passiamo in remoto passiamo in remoto consigliere di Cristo aspetto astenuto consigliera Perego astenuta grazie presidente consigliera Floridi astenuta grazie a voi consiglieri quindi 15 voti favorevoli e 9 voti astenuti la delibera approvata passiamo e votiamo per l'immediata eseguibilità favorevoli 15 favorevoli contrari nessun contrario astenuti sei astenuti votiamo in remoto consigliere Vincenzo di Cristo prego astenuto consigliera Perego prego astenuta consigliera Floridi prego astenuta grazie consiglieri 15 favorevoli nessun contrario 9 astenuti la delibera immediatamente eseguibile grazie a lei segretario passiamo alla delibera al punto 6 convenzione inerente la concessione per la progettazione costruzione gestione del nuovo complesso polifunzionale Carmen Longo costituito da Lido Estivo spazio polifunzionale sportivo servizio di ristorazione attività commerciali esito della verifica avviata con deliberazione di consiglio comunale numero 41 del 21 luglio 2020 a seguito dell'emergenza sanitaria da coronavirus covid-19 approvazione dell'atto convenzionale integrativo numero 1 parla l'assessore la miranda facoltà di parola prego grazie presidente intanto preallerto la regia che al termine del mio intervento può proiettare poi le immagini che abbiamo caricato è una delibera in continuità con l'impegno che ci eravamo presi a luglio e che il consiglio comunale aveva autorizzato la giunta nell'iter dove oltre ad avere modificato i tempi di consegna dell'impianto natatorio differendoli rispetto al progetto iniziale con una consegna febbraio 2022 con apertura impianto per marzo 2022 in questa sede integriamo quella prima deliberato con il progetto definitivo che ha subito delle modifiche a seguito degli adeguamenti normativi in parte richiesti dai vigili del fuoco e soprattutto richiesti dall'ATS in relazione e non solo anche all'emergenza covid in aggiunta a ciò si è reso necessario apportare una serie di modifiche strutturali legate soprattutto all'emergenza covid che hanno appesantito il quadro economico di esercizio che deve essere necessariamente riequilibrato in quest'area attraverso in parte l'uso della negoziazione convenzionale di cui all'articolo 10.7 e in parte attraverso il ricorso a nuova forma di finanziamento complessivamente nei documenti che vi abbiamo trasmesso abbiamo visto che l'intervento costa di adeguamento 330.000 euro in più 128.000 euro circa trovano il riequilibrio all'interno delle norme della convenzione la residua sorma trova riequilibrio attraverso la monetizzazione o meglio la messa a reddito dei posteggi pertinenziali legati all'attività natatoria all'impianto natatorio in quanto tale quelli di via Fratelli Bandiera che il gestore potrà quindi mettere a reddito al fine di riequilibrare l'esborso che va in questo momento a sostenere in aggiunta al piano economico complessivo finanziario che viene confermato nel suo insieme nei costi e nelle coperture finanziarie in conseguenza di ciò all'aula chiediamo che venga autorizzato non solo appunto la conferma del nuovo termine di consegna dell'impianto per marzo 2022 ma l'autorizzazione al dirigente dell'area tecnica andare a sottoscrivere l'accordo integrativo di riequilibrio del piano finanziario e in parte ad areato che questa maggiore spesa si riequilibra in parte nella convenzione e in parte attraverso la valorizzazione economica dei posteggi pertinenziali già legati fin dall'inizio al piano economico finanziario e progete della riqualificazione della carne lungo per quanto riguarda la riqualificazione dell'impianto nel suo insieme vediamo una brevissima filmato che riassume graficamente tutto quello che in commissione ho descritto nelle richieste e negli adeguamenti dell'impianto sportivo grazie prego ma loro non lo vedono quindi e loro sono in diretto lo vedono perfetto è bianco il lume grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Chiudo la discussione. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Contrari. Grazie a tutti. 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 Presidente. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.